L'efficacia del vaccino anti-covid monodose di Johnson & Johnson raggiunge il 94% nel proteggere da un'infezione sintomatica con malattia da moderata grave somministrando una dose booster del prodotto dopo due mesi dalla prima. Lo studio ha incluso 390.000 persone che hanno ricevuto l'iniezione Johnson & Johnson e come controllano un campione confrontabile di oltre un milione e mezzo di persone non vaccinate. Il gruppo farmaceutico americano ha sottoposto i dati all'Agenzia Americana del Farmaco, poi saranno inviati all'Organizzazione Mondiale della Sanità.